Il 13 gennaio 2. La dinamica del disastro può essere ricostruita 10 anni dopo l'incidente. Per l'ultima tappa della crociera, profumo da grumi nel mar Mediterraneo, la nave è partita dal porto di Civitavecchia alle 18.57. Doveva quindi tornare a Savona, ma alle 21.04 la nave ha virato fuori rotta per eseguire una manovra nota come passaggio ravvicinato, inchinandosi sotto l'isola del Giglio. Secondo le informazioni lasciate dal comandante Francesco Schettino, era stata richiesta dal maitre Antonello Tievoli, proprietario di una casa sull'isola, da prima della partenza. Quando la costa Concordia si avvicinò all'isola del Giglio, avrebbe dovuto virare a nord per riprendere la sua normale traiettoria lungo la costa ed evitare una collisione. Invece, alle 21.42, Schettino ha dato l'ordine di virare di 330 gradi, poi rapidamente di 335, 340 e 350 gradi per passare davanti a Giglio Porto mantenendo una stretta vicinanza alla costa e lanciando saluti. La distanza tra la nave e gli scogli fu così ridotta da 450 metri a 160 metri. Il comandante ha emesso una serie di manovre dopo essersi reso conto di essere troppo vicino all'isola e fuori rotta. Quando la poppa iniziò ad avvicinarsi agli scogli due minuti dopo, il capitano ordinò al timoniere di centrarsi per fermare la manovra, ma il timoniere, Rusli Bean, fraintese l'ordine e virò a dritta. Secondo i risultati delle indagini sull'incidente, Schettino ordinò l'intero sbarco in porto alle 21.45, ma due secondi dopo la nave colpì il più piccolo degli scogli delle scole, che erano profondi 8 metri e distanti 96 metri dall'isola del Giglio. La costa Concordia è stata gravemente danneggiata da questa collisione. I principali motori elettrici e generatori diesel sono stati distrutti dall'acqua che è entrata nella perdita di 70 metri. Poi ci fu un breve blackout seguito dall'interruzione della propulsione a bordo della nave. A causa della gravità del danno, la marea allagò i compartimenti impedendo ogni manovra di arresto del flusso d'acqua. Le porte stagne di poppa sono stati istruite per essere chiuse dopo che gli allarmi di guasto hanno iniziato a suonare in plancia. Non è stato possibile utilizzare pompe e timoni perché il generatore diesel di emergenza si è spento per surriscaldamento. La nave era infatti impossibile da controllare. Alle 21.45 la costa Concordia ha subito un incidente, un urto con massi che ha lasciato uno squarcio nello scafo, un allagamento d'acqua nei compartimenti 4, 5, 6, 7 e 8 e panico a bordo. La costa Concordia iniziò lentamente ad affondare a causa del completo blackout all'interno della nave e dell'instabilità della nave, causando l'annegamento di diversi passeggeri e membri dell'equipaggio. L'autorità portuale di Livorno ha contattato Schettino poco più di 30 minuti dopo la collisione, ma ha minimizzato l'evento. Poco dopo, il comandante ha lasciato la nave senza attendere l'evacuazione del resto dei passeggeri, sfidando tutte le istruzioni e le convenzioni. A causa della tragedia che è arrivata conosciuta come il «Titanic italiano», il Concordia si abbatte alle 24.42, sul lato di dritta, con un angolo di quasi 90 gradi. La mattina seguente, i giornalisti hanno catturato le immagini di una nave che assomigliava a una balena che si era arenata a largo della costa. 32 persone, tra passeggeri e membri dell'equipaggio, morirono quando la costa Concordia si incagliò su un fianco a largo dell'Isola del Giglio in questo giorno, 11 anni fa. Francesco Schettino, il comandante del transatlantico condannato a 16 anni di reclusione, non ha ricevuto un secondo processo. Il ricorso della difesa contro la decisione della Corte d'Appello di Genova, che aveva vietato la revisione del processo per l'affondamento della nave nel febbraio scorso, è stato infatti respinto dalla Cassazione. Persiste il malcontento degli avvocati che hanno sostenuto Schettino, Saverio Senese e Paola Astarita, in attesa di conoscere le ragioni non dichiarate che hanno indotto la Cassazione a respingere la loro richiesta di nuovo processo. Continuo a ritenere che la sentenza per il naufragio fosse del tutto legittima e comprensibile, ma quella per l'omicidio colposo e ancora di più per l'abbandono nave mi ha lasciato molti dubbi, ha detto Senesea, la nazione. Sarebbe stato impossibile rimuovere la nave mentre era ancora in acqua. I suoi serbatoi di carburante erano ancora pieni al momento dell'impatto e una catastrofe ambientale era una possibilità. L'incidente aveva anche causato l'inclinazione della nave, sommergendo un lato. Per ottenere questo risultato è stato prima necessario andare avanti con il cosiddetto parbucking. L'obiettivo, in corso dal 16 settembre 2013, è stato completato dopo 19 ore di lavoro. La nave è stata poi rimessa a galla nel luglio 2014, facendola riemergere e galleggiare. Più di due anni e mezzo dopo la tragedia, il 23 luglio 2014, il relitto ha compiuto il suo ultimo viaggio dall'isola del Giglio a Genova. La nave ovviamente non era in grado di navigare da sola, quindi è stata rimorchiata e scortata da una sorta di mezzo tecnico. La gente del posto ha tributato alla partenza un caloroso applauso. 32 persone, tra passeggeri ed equipaggio, sono morte quando la costa Concordia è affondata a largo del giglio il 13 gennaio 2012. Erano originari di India, Italia, Spagna, Francia, Germania, Ungheria, Peru e Stati Uniti. Diana Arlotti, 5 anni, è stata la vittima più giovane. Se ti è piaciuto questo video clicca mi piace, lascia un commento e iscriviti al canale. Grazie.